Sullo sfondo la Gigafactory e i suoi sviluppi in primo piano, l'emergenza e energia sono i temi più importanti toccati dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel tour molisano con prima tappa termoli. Ieri sera l'incontro con la base molisana del Carroccio, questa mattina l'inaugurazione della sede elettorale del candidato Michele Marone, poi l'incontro al Cosib con gli imprenditori che chiedono risposte concrete. Prima di tutto cambiare le regole che in Europa fanno male soltanto agli europei, sono delle regole che portano e favoriscono la speculazione e fanno innalzare i prezzi. In secondo luogo a livello nazionale con coraggio affrontare anche delle scelte impegnative con lo scostamento di bilancio per ridurre le bollette sia per le famiglie che per le imprese. Il responsabile del Mise ha assicurato che lo Stato interverrà e andrà incontro alle esigenze di imprese e famiglie. La sensazione è che la gente è intimorita, smarrita, in qualche caso anche legittimamente ha un timore per l'equilibrio economico del proprio bilancio familiare, in ragione dei costi e dell'inflazione. Compito della politica e naturalmente noi come Lega abbiamo questo tipo di ambizione, delle risposte, sicurezza, ecco, soprattutto sicurezza alle famiglie e anche una prospettiva per il sistema economico per le imprese, perché il sistema delle imprese ha delle difficoltà oggi che sono veramente emergenziali, quindi dobbiamo in qualche modo tamponare quella che è una vera e propria emorologia e soprattutto dobbiamo creare un ambiente sicuro e certo per continuare a crederci, per fare in modo che le imprese continuino a crederci, a investire e creare posti di lavoro per i giovani. Al Cosib, con accanto i candidati Cesa e Lotito, Giorgetti ha parlato della Gigafactory e dell'importanza dello stabilimento di Termoli. Prendere atto che qui a Termoli in particolare c'è una realtà veramente forte sotto il profilo del tessuto industriale, è chiaro che Stellantis, la Gigafactory che proprio il MIS è proprio sottoscritto in qualche modo, ha voluto e ha portato avanti qui e rappresenta un unicum, perché l'unica realtà in tutta Italia dell'automotive del futuro è stato deciso di farla qui in proprio Termoli. Ma ci sono tante eccellenze di diverso tipo, anche nella chimica, nella farmaceutica, cioè io penso che questo sia un territorio davvero con delle eccellenze che possono agganciare quelli che sono i nuovi sentieri dello sviluppo, su cui noi come Ministro dello Sviluppo Economico abbiamo investito, anche proprio le risorse del PNR. Quindi il messaggio è un messaggio di continuare a crederci anche nelle attuali difficoltà con grande fiducia nel futuro.